Sono Fiorella e vengo da Colli Salvetti, che è un comune della Toscana, nella provincia di Livorno. Oltre a tanti hobby che ho, è venuto anche quello dello scrivere. Ho scritto sempre tante poesie. Questa volta ho scritto questo romanzo, che è Il respiro dell'anima. Questo romanzo è molto corto, 80 pagine, e quindi lo proporrei a quelli che dicano sempre non ho mai letto un libro, perché 80 pagine, molto semplici, scritto con parole, chiamiamole povere, però è ricco di contenuto. Si potrebbe dire che è un libro molto triste, ma non è vero, perché ha il suo fine. Il suo fine è questo, che la tristezza serve per arricchire l'anima, perché noi siamo sempre state anime, sempre state anime, che siamo stati calati in questo corpo, in più corpi. Perché questo? Perché dobbiamo raggiungere la perfezione e la perfezione si raggiunge soltanto col dolore. Una volta raggiunta la perfezione, allora ritorniamo al nostro creatore. Per raggiungere la perfezione c'è da fare tanta strada. Per questo che è un romanzo triste, che tratta di una ragazza, una ragazza che non farà una bella fine, però è colpa sua. Quindi cosa succede? Una volta morta gli appare l'entità superiore che gli dirà che si dovrà rincarnare e avrà ancora un'altra vita difficile da svolgere. Se questa vita difficile la svolgerà con intelligenza, con umiltà, allora potrà avvicinarsi a Dio, avvicinarsi, perché quando uno combina qualcosa di brutto non è che con una sola vita o due può parare al suo danno. Però se anche la vita difficile che gli si ripresenterà, non l'accetterà, perché bisogna accettare. E bisogna accettare il male, cioè la vita quando è brutta, perché è facile accettarla quando è bella. Vorrà di chi si dovrà rincarnare, a rincarnare, a rincarnare. Ci potremmo fare una domanda, allora chi ha davanti una bella vita, chi ha davanti una bella vita, diciamo che deve lottare ancora di più, perché essendo molto semplice, è un piccolo sbaglio, diventerà un grande sbaglio e quindi quando si rincarnerà, allora lì avrà la vita difficile da dover superare. Ciao a tutti, io mi chiamo Marzia Biondi, vengo da Forlì in Romagna ed è la prima occasione che ho nella mia vita di presentare un libro che ho scritto di getto, semplicemente così come ho scritto nella dedica, come matita spuntata, così come è stato detto da madre Teresa di Calcutta. È un po' lo scopo del libro, è un libro di raccolta di poesie. Si chiama Ogni istante e un po' già dice tutto il titolo, nel senso che proprio come matita spuntata vuole raccogliere nella quotidianità, nella semplicità delle cose, ma proprio perché così semplici, così importanti, nascono in ogni momento della nostra vita anche quello che noi non vediamo, perché siamo sempre proiettati nell'attimo dopo, perdiamo di conseguenza ogni attimo che ci succede nella quotidianità, fino al momento in cui poi arriviamo alla fine e diciamo, ma forse, ma perché ho vissuto, ho vissuto, la vita è tutta qui. E questa raccolta ha questo senso qui, di fermare un attimo il momento, soprattutto quelli di difficoltà, perché è proprio da questi che si coglie quella che è la nostra essenza, che ci accomuna in tutte le parti del mondo e in tutte le età, infatti questo libro spero possa essere di interesse un po' alle varie fasce d'età delle persone, dall'adolescente che incomincia a avere le prime difficoltà di vita alla persona più anziana che magari pensa di non avere più senso nella propria vita, quando forse è lo scrigno più importante perché ha in sé la saggezza che può essere da testimonianza per altre persone. Quindi ho scritto questo libro partendo nel 2007 come inizio, nel periodo in cui ero in carrozzina, a seguito di un intervento chirurgico e paradossalmente è stato proprio questo il momento in cui mi sono sentita di voler comunicare anche ad altri quanto importante è collegarsi con l'essenza nostra, che non è nella quotidianità spicciola, fra virgolette, intesa nella visibilità, nel potere che danno le persone solamente perché c'è scritto dottore davanti o perché si pensa di valere qualcosa solo per il portafoglio che è più grosso rispetto a quello degli altri. Se avrete occasione di vedere il libro, la copertina esprime già il contenuto come valore intrinseco in sé stesso, che è proprio dalle nuvole guardare verso l'alto in un raggio di sole perché proprio nel momento in cui la mente non può andare oltre nelle risposte, nel momento in cui riempiendo anche la pancia in realtà ci si trova più vuoti di prima, nel momento in cui le persone intorno che consideravi un po' quelle da emulare perché rappresentavano la forza che ti spingeva e ti apriva tutte le porte, ti rendi conto che questo non conta più, allora rimane altro che voltarsi verso l'alto e invocare chiedendo aiuto. Tutti abbiamo bisogno di una cosa unica che ci spaventa proprio perché è essenziale ed è l'amore gratuito, un amore che può essere dato da un sorriso come quello che fa un bambino appena nato, che non ha nulla altro che comunicare attraverso il sorriso che apre i cuori, non solo quello di sua madre ma di chiunque gli ci si avvicini, così come nel bambino africano, come nel bambino di altre nazioni ma anche negli adulti che sono i più bisognosi di avere bisogno di amore e non lo vogliono ammettere perché il corpo grande in realtà è diventato uno scafandro che avvolge questa energia e questo vero tesoro che è appunto l'interiorità. Per concludere io spero appunto che il libro possa portare come testimonianza la voglia di essere a propria volta testimoni di questo amore gratuito. Ciao a tutti, mi chiamo Fiammetta Franchi, il romanzo che ho pubblicato si intitola Mi chiamo Assunta ma sono disoccupata, è la storia di due gemelle che partono dal sud per andare in cerca di lavoro al nord, in realtà è una storia che potrebbe svolgersi da qualunque parte, diciamo che potremmo anche ribaltarla, potrebbero essere anche due persone che partono dal nord per andare a cercare lavoro al sud, perché? Perché questa è una storia di precariato, è una storia che apparentemente potrebbe sembrare triste ma non lo è e vi domanderete perché ho scritto questo tipo di libro che può sembrare trattare argomenti che al giorno d'oggi sembrano abbastanza scontati, soprattutto nel loro finale. Diciamo che quando scrivo un libro molto spesso provo dentro della rabbia per qualche cosa, provo rabbia per la disonestà dilagante, provo rabbia per l'arroganza, per la prepotenza, per il morbing perpetuato e credo però che l'ironia tutto sommato sia l'unica arma che lascia sempre spiazzato un po' l'avversario e credo che sia anche l'unica ancora di salvezza per il nostro interiore. Ecco perché quando inizio a scrivere un libro dentro di me spesso sto affrontando un argomento con rabbia ma poi finisco per affrontarlo con ironia, cercare di guardare il bicchiere mezzo pieno, cercare di raccontarlo non in maniera triste perché le persone che leggono non hanno bisogno di leggere cose tristi perché c'è già abbastanza la realtà e le persone che scrivono secondo me anche loro non hanno bisogno di narrare cose tristi perché anche loro vedono anche troppo la realtà. Quindi cerchiamo un sistema per guardare alle cose dell'oggi, alle cose che effettivamente esistono ma con un concetto anche abbastanza scherzoso per trovare una soluzione invece molto molto seria. Molti mi hanno chiesto se questo libro sia autobiografico, vi rispondo soltanto leggetevelo e decidete voi. Ciao a tutti, sono Elio Senesi, sono nata a Genova dove vivo tutt'ora in famiglia, amo la montagna, l'ho vissuta da piccolo, prima con camminate, poi con lo sci, poi ho provato il parapendio che è una cosa bellissima. Facendo delle passeggiate mi sono trovato tra le mani questa storia da raccontare. Sono arrivato a raccontare dopo aver letto circa 100 libri in due anni, mi sono trovato saturo di lettura, la mente mi rifiutava proprio il leggere e per passare il tempo mi sono messo a scrivere. Ho scritto un libro, l'ho intitolato Domani, è un giallo. Questo titolo è venuto fuori dalla storia narrata, cioè proprio leggendo capita uno scritto domani e da lì ho preso il titolo. Praticamente parla di due storie di persone single, dove una finisce bene e l'altra finirà tragicamente. Quando per passare il tempo ho scritto questo racconto non pensavo certo di pubblicarlo, poi leggendolo e rileggendolo ho trovato la cosa piuttosto gradevole, l'ho presentata a degli amici che mi hanno fatto delle lodi, che inizialmente pensavo mi prendessero un po' in giro, poi invece erano piuttosto vericchiere. Quello che volevo da questo libro era di portare una lettura scorrevole, che non portasse il lettore a bloccarsi e andare indietro a rileggere. E poi quando il lettore finisce di leggere il libro, di avere la voglia, il desiderio di prendere un altro libro da rileggere. Con questo libro non volevo certamente dare alcun messaggio, perché essendo un libro giallo è solo una questione di passione. Cosa mi aspetto? Un esito positivo che mi invogli andare avanti con altri iscritti. Grazie a tutti!